L'Abruzzo è di nuovo protagonista di un evento sportivo di rilievo nazionale con la partecipazione e il contributo del Ministero dell'Agricoltura. Noi abbiamo sollecitato fortemente questo ritorno della grande Ippica sul nostro territorio. L'Abruzzo sarà presente anche con i propri stand promozionali perché queste sono sempre occasioni di promozione dei propri prodotti, della propria cultura, del proprio territorio. Quindi vi aspettiamo tutti domenica 4 agosto a Tagliacozzo per una giornata molto bella di sport, di natura, di cultura, di enogastronomia e di qualità. Per favorire l'arrivo del pubblico, TUA organizza anche le fermate speciali a Tagliacozzo e portare gente senza utilizzare i mezzi privati. Stiamo proseguendo lungo una strada che abbiamo inaugurato in questi ultimi anni, quello di utilizzare il nostro vettore ferroviario anche per fare treni turistici. Ne abbiamo acquistati allo scopo proprio per favorire queste occasioni e fare in modo che quando ci sono i grandi eventi che attraggono pubblico, attraggono turismo, la nostra divisione ferroviaria di TUA si metta al servizio e possa trasportare quanti più turisti possibile per favorire la conoscenza dei nostri luoghi.